E anche oggi, come di consueto, vi do il buongiorno da questa cartolina di Roma. Tanti i medici che con i loro consigli, con le loro informazioni, cercheranno di farci fare un passo ulteriore verso il benessere. Tunnel carpale. Approfondiremo le cause, ma anche le cure. Con la professoressa Brandi parleremo di digestione e a seguire con la professoressa Pucci Romano di sudorazione. Vedo già Margherita in compagnia del nostro ospite. Parleremo di ictus. Margherita, a te. Benvenuta Francesca Pezzella. È la seconda volta che vieni qui a distanza ravvicinata. Perché? Perché ci devi dare dei messaggi importanti, così come quelli dell'altra volta. Tu sei neurologa del centro ictus del San Camillo e è appena terminato il mese della prevenzione dell'ictus. Dove si è puntato su un messaggio. Il legame che c'è tra cuore e cervello. Ma era proprio necessario ancora ribadirlo? Dal mio punto di vista era quasi scontato che cuore e cervello fossero dipendenti l'uno dall'altro. Invece no? Grazie innanzitutto Margherita per avermi rinvitato e per avermi dato la possibilità di sottolineare di nuovo in maniera positiva i messaggi relativi alla prevenzione e alla cura dell'ictus cerebrale. Ebbene sì, era assolutamente necessario di nuovo stressare questo legame cuore-cervello perché non tutta la popolazione ricorda, non tutta la popolazione di qualsiasi età ha presente quanto questi due organi siano legati tra loro. Le patologie cardiovascolari, quali ad esempio la fibrillazione atriale, possono provocare l'ictus cerebrale. E vediamo che con l'aumentare degli anni nella nostra vita questo rischio aumenta. In che modo? Sappiamo che un ictus su quattro può essere dovuto alla fibrillazione atriale. Che è, ricordalo velocissimamente, noi come l'avvertiamo la fibrillazione? È una ritmia cardiaca, ce ne accorgiamo perché il cuore invece di avere quel ritmo sinusale e quindi così preciso e scandito al quale siamo abituati, a un certo punto è come se impazzisse. Abbiamo la sensazione di battiti non ritmici ma aritmici, quindi è un cuore che invece che fare tun-tun-tun inizia a fare tun-tu-tun-tun-tun e non riusciamo a percepire in maniera corretta ad esempio il nostro polso. Ed è importante imparare a sentire il polso quando abbiamo ad esempio la sensazione del batticuore. È importante farlo, però non tutti sanno farlo, non tutti sanno prendersi il battito del polso. Hai ragione infatti, questa è una cosa anche abbastanza semplice da fare. Fallo vedere come si fa, dove bisogna mettere il pollice, le due dita. Le due dita, è molto più semplice sentirlo con due dita, questo ci permette di localizzare bene l'arteria radiale e sull'arteria radiale facendo una certa compressione, diciamo spingendo un pochino, possiamo avvertire il battito del nostro polso. Avvertendo il battito del polso ci rendiamo conto se è ritmico oppure è aritmico. E se è ritmico? Se è ritmico è utile rivolgersi ai nostri medici di famiglia, fare un elettrocardiogramma, raccontare quello che è successo, il contesto in cui ci siamo accorti che il nostro cuore batteva in maniera ritmica in modo tale da poter approfondire. Tutto questo senza paura. Però non è detto che debba essere collegato necessariamente a un problema anche cerebrale, no? No, assolutamente, infatti come stavi dicendo assolutamente non è detto, è possibile che esista. È possibile, quindi è bene fare prevenzione e Alice che è l'associazione, ripetilo tu, l'associazione lotta all'ictus cerebrale. Ecco perché io su queste sigle mi impappino sempre, ha puntato su questo ed ha chiamato come testimonial un personaggio molto conosciuto, Platinet, che è riduce da un ictus l'altro anno e si è completamente ripreso. Assolutamente sì. Quindi il messaggio è positivo. Senti Francesca, 8 episodi di ictus su 10 potrebbero essere prevenuti intervenendo sulle cause che poi lo determinano. Quali sono? Allora, hai assolutamente ragione perché ben fino all'80% potremmo evitarli. Come si evitano? Si evitano con un corretto stile di vita, sia se si è già avuto un episodio, sia se non lo si è avuto. Ad esempio, attraverso il controllo della pressione arteriosa, che è il primo fattore per ictus cerebrale, abbattendo il fumo di sigaretta, controllando anche l'ipercolesterolemia. Sappiamo ad esempio che le LDL... È colesterolo che noi chiamiamo cattivo? Esattamente. Dovrebbe essere il più basso possibile, soprattutto in chi ha altri fattori di rischio vascolare, per poter controllare la probabilità che questo ridurre, la probabilità che ci sia un nuovo fenomeno. E poi ovviamente altri aspetti legati allo stile di vita, come ad esempio, oltre alla fibrillazione atriale, come ad esempio il movimento, lo sport, il fatto di svolgere una regolare attività fisica, che sia ovviamente compatibile con la condizione della persona. Tutto l'aspetto legato alla nutrizione, all'alimentazione, sono tutti quanti elementi che ci aiutano a controllare i fattori di rischio e ad avere una vita sana. Senti, l'esame dell'ecodoppler, innanzitutto, poi ci spieghi velocemente che cos'è. È importante, cioè è necessario per determinare un eventuale rischio di andare incontro a un episodio di ictus? Assolutamente sì, è importante. L'ecodoppler è un esame diagnostico che si utilizza per andare a valutare la morfologia e il flusso del sangue nelle nostre arterie. Le arterie sono quei vasi attraverso cui il sangue defluisce dal cuore verso la periferia e quindi porta l'ossigeno e i nutrienti in ogni distretto. L'ecodoppler, in particolare delle carotidi e del circolo posteriore, quindi dell'arteria basilare, ci permette di vedere se questi vasi, sia dal punto di vista morfologico, sia dal punto di vista del flusso, sono in un buono stato di salute. Ad esempio, sia il fumo di sigaretta che l'ipercolesterolemia, ma anche l'ipertensione arteriosa, favoriscono la formazione di alcune placche che riducono la dimensione del vaso, aumentando quindi il rischio di sviluppare una patologia cerebrovascolare. Senti, noi siamo qui anche per dare un messaggio. Mettiamo che subiamo un ictus, siamo vittime dell'ictus. È importantissimo il modo in cui si interviene, il modo in cui si chiama il 118, l'emergenza, come si va in ospedale. Ecco, perché l'ictus si può riprendere. Assolutamente sì. Che cosa dobbiamo fare? Dunque, innanzitutto è importante che la popolazione sia a conoscenza dei primi segni di un ictus cerebrale. Tant'è vero che sono stati sviluppati diversi programmi, anche per insegnarlo ai bambini. Il programma Fastiros, quindi Eroi Veloci dell'Associazione di Alice, ad esempio, è proprio dedicato ai bambini, a insegnare loro a riconoscere che cosa? A riconoscere una bocca che improvvisamente diventa storta, una difficoltà nel parlare, un deficit di forza e quindi un'ipostenia, l'impossibilità di muovere un braccio o una gamba, o tutte e due. Questo ci permette di poter identificare immediatamente le persone che sono a rischio di un ictus cerebrale e quindi di attivare la catena della sopravvivenza. Scusa se ti interrompo, mi sembra proprio recentemente si siano letti sulla stampa delle storie di bambini che hanno telefonato spontaneamente ai genitori per dire che i nonni avevano sintomi strani, vero? Quindi serve? È vero, assolutamente serve. In Italia ci sono 12 milioni di nonni e un nonno su tre è un nonno full time. Eppure questi nonni non solo si prendono cura dei loro nipotini, ma possono ricevere cura. Proprio per questo, perché se ci si accorge di questi segni, chiamando il 118, l'intervento è assicurato. Comunque chiamare sempre il 118, non andare in ospedale autonomamente, perché già in ambulanza, mentre si trasportati, si può fare qualcosa. Assolutamente, quello che si può fare è che si può allertare l'ospedale dove la persona è accompagnata. Se in quell'ospedale esiste un team neurovascolare, devo dire che in tutta Italia il numero dei team neurovascolari sta aumentando, e un ospedale pronto ad accogliere un paziente con ictus, si predispone tutta quanta la catena di test, di diagnostica e di valutazioni che viene fatta e quindi quella persona, sia che abbia un tipo di ictus ischemico, sia che abbia un tipo di ictus emorragico, potrà ricevere in tempi utili il miglior trattamento possibile. Senti, anche recentemente sono stati comunicati i dati delle performance, delle reti tempodipendenti, cioè di intervento su due patologie infarto ictus. Abbiamo visto che per quanto riguarda ambedue c'è molta disparità in Italia, ci sono regioni molto indietro e regioni che invece hanno un sistema di intervento rapidissimo. Sì, questo è vero, esiste una differenza a livello regionale tra diverse regioni, laddove ci sono un maggior numero di centri ictus, laddove esiste una prenotifica rispetto appunto all'arrivo di un paziente con ictus e laddove invece questo è un work in progress, quindi sta ancora per accadere. Però la buona notizia che posso dare è che rispetto a 20 anni fa, ad esempio, non solo si è ridotto il numero totale di persone che sono colpite da un ictus cerebrale, io ricordo negli anni 2000, alla fine degli anni 90, avevamo circa 200.000 pazienti ogni anno con un nuovo evento, adesso in Veno invece abbiamo 130.000, 140.000 proprio come numero totale, quindi c'è una riduzione dell'incidenza grazie proprio all'ammiglioramento della prevenzione, ma anche gli esiti sono migliorati proprio perché è aumentata la sensibilità. Grazie a voi, grazie ai messaggi anche che date attraverso la lice, ma ho parlato di reti tempo dipendenti, che vuol dire perché nell'intervento di emergenza sull'ictus e sull'infarto ogni secondo conta. Infatti ogni secondo conta, questo perché ovviamente nel cervello ischemico, così come anche nel cervello emorragico, più tempo passa dal momento... Che vuol dire, scusa, me lo devi spiegare, ischemico emorragico? Il cervello ischemico è il cervello, la persona in cui c'è un'ostruzione di un vaso e quindi non arriva sufficiente sangue per poter nutrire e irrorare un determinato tessuto cerebrale. Nel cervello emorragico invece il vaso si rompe all'interno del parenchima e quindi c'è un'emorragia cerebrale. E in ambedue le situazioni il tempo di intervento è fondamentale. È determinante, quindi appena si vede un segno come difficoltà nel parlare, un deficit di forza di un braccio, di una gamba o la bocca storta, chiamare il 112, il 118 per poter attivare la catena della sopravvivenza. Francesca, noi con questo ti salutiamo e ti ringraziamo e adesso passiamo la parola a Massimiliano. Ma che sabato sarebbe senza la nostra professoressa Brandi? Noioso? Assolutamente sì. Oggi parliamo di digestione, ma che cosa c'entra l'ormone con la digestione? Ah, moltissimo. Noi abbiamo i cosiddetti gastroenterormoni che sono degli ormoni che vengono rilasciati da tutto il nostro tratto digerente, stomaco, intestino teno e intestino grasso. Sono circa 15 tipi cellulari diversi che producono ormoni e questi ormoni sono per esempio la gastrina che viene rilasciata dallo stomaco quando arriva il cibo perché la gastrina diminuisce il pH, aumenta la produzione di idrogenioni nello stomaco e noi abbiamo bisogno di quelli per digerire. Poi nel duodeno, quindi la prima parte del tenue, noi avremo la secretina che è un ormone che invece, siccome arriva tutto questo acido nell'intestino e l'intestino non vuole essere offeso dall'acido, stimola la produzione della secrezione del pancreas e anche della bile, così tutto diventa tamponato. Poi abbiamo un ormone che viene prodotto invece nell'intestino grasso che è il vasoactive intestinal peptide, è un vero e proprio ormone che controlla la motorità del nostro intestino. Quindi tanti ormoni e alcuni di questi ormoni sono anche neurotrasmettitori nel cervello e perifericamente, quindi sono ormoni che sono un po' neuro e un po' gastro. Ma si possono misurare? Tutti questi ormoni sono oggi misurabili. Li dobbiamo misurare in situazioni in cui noi sospettiamo qualcosa di diverso, non perché ho un po' di diarrea misuro un gastroenterormone, ma se io per esempio ho un'ulcera gastrica che non risponde bene alla terapia e continuo a recidivare, se io ho una diarrea cronica molto importante ed acquosa, allora devo misurare questi ormoni. E' il gastroenterologo che dirà quali ormoni vanno misurati. Però molto spesso uno squilibrio ormonale può influenzare comunque la digestione. Beh, allora parliamo di altri ormoni. Non lo so, dopo la menopausa, per esempio, lo squilibrio ormonale è la riduzione degli estrogeni e allora noi abbiamo problemi. Quindi stipsi, che è quella più frequente, gonfiori frequentemente, e questi sono quello che lamenta la donna dopo la menopausa che naturalmente in qualche maniera sente questa carenza estrogenica. Adesso però la parola d'ordine legata al mondo della digestione. Conosciamo bene il nostro cervello intestinale. Professoressa, noi ci vediamo sabato prossimo, ahimè sarà l'ultima puntata. Va bene? Che peccato. Intanto mandiamo la pubblicità, ci vediamo subito dopo. Margherita, ancora insieme, siamo quasi inseparabili. Ancora parleremo di una cosa che ti interesserà moltissimo perché riguarda anche gli sportivi e sono tutte quelle sindrome che io chiamo dei canali e poi il nostro ospite Alessandro Greco che è un chirurgo della mano, specialista della mano, ci spiegherà meglio con termini tecnici di che cosa si tratta. Sono delle sindrome che in pratica riguardano, dimmi se sto ripetendo bene, e partono dalla cervicale, sono dei nervi che arrivano fino alle dita e si trovano delle ostruzioni. Sì, puoi sentire male o alla mano o al gomito. Detto bene, no? Le sindrome canali colari sono dovute a una sofferenza del nervo lungo il decorso dall'arachide cervicale fino alla mano. Fanno questo lungo percorso questi nervi e durante questo percorso passano all'interno di dei canali, sono dei veri e propri tunnel, si chiamano tunnel osteofibrosi, che è un termine difficile per spiegare che è una struttura che non si può né allungare, né allargare, né restringere. E il nervo passa... Cioè una struttura ossea? Ossea sotto e fibrosa sopra, quindi è proprio un cerchio all'interno del quale il nervo passa e può essere compresso. La compressione del nervo dà come conseguenza dei problemi sia a livello del gomito che a livello della mano, a seconda del nervo che viene... Queste le patologie più diffuse, le sindrome più diffuse sono il tuner carpale che noi tutti abbiamo sentito nominare e il gomito, che però il gomito non c'entra niente col gomito del tennista. No, il gomito del tennista è una tendinopatia. L'abbiamo già trattato. Che quindi danno un dolore sulla zona dove il tennine poggia sull'osso. Quello è il gomito del tennista. Ormai siamo così bravi che facciamo noi praticamente i test dei nostri ospiti. Sì. Però lei ha detto che è una compressione, ma questa compressione è degenerativa o a monte c'è un trauma che può scattare, fa scattare questo blocco, questo limite? Allora dobbiamo distinguere. Nella sindrome del tuner carpale per lo più non è da overuse, cioè non è da eccessivo utilizzo della mano, ma è dismetabolico. Cioè quindi un problema ormonale che provoca una ritenzione di liquido all'interno dei tessuti che provoca una sofferenza del nervo. Diverso è il caso invece del nervo ulnare a livello del gomito, dove dà la sindrome del tunnel cubitale, quindi sul cubito e sul gomito. In questo caso è legato all'artrosi e può essere legato a una ipertrofia, cioè un inspessimento dell'osso che va a schiacciare il nervo quando passa in quel tunnel vicino al gomito. Alessandro, tuner carpale, descriviamolo meglio innanzitutto, fallo vedere tu, quale zona della mano prende? Si addormentano le prime tre... Io mi toccavo qua, invece no. No, la risatrosi diciamo è il dolore in questa zona. Peno male. La risatrosi dà dolore in questa zona, che è un discorso diverso. Invece il tuner carpale dà l'addormentamento delle prime quattro dita della mano, della zona palmare, quindi del palmo della mano, delle prime, diciamo, quattro dita per semplificare. E questo dà soprattutto un dolore notturno, cioè le persone si svegliano per questa mano addormentata di notte che disturba il sonno. Colpisce le persone più grandi perché hai detto che dipende molto anche dalla... Dall'assetto ormonale. Dall'assetto ormonale, quindi non so, una persona più grande, donna o uomo. Tipicamente ne soffrono le donne nel perimenopausa, quindi prima durante e dopo la menopausa. Però chiunque abbia dei disturbi ormonali può soffrire di tuner carpale. Ma come si arriva alla diagnosi? Sì, cioè io ho questo dolore notturno e mi faccio vedere. Dall'ortopedico. Mi faccio visita dall'ortopedico e c'è una diagnosi differenziale? Sì, allora diciamo che alla base di tutto c'è un esame obiettivo, cioè quindi una visita. Visitando si può discriminare tra l'artrosi del pollice, quindi la risartrosi, e il tuner carpale. Anche dalla storia, da come viene raccontato il problema dalla parte del paziente, ci si riesce a fare un'idea. Gli esami strumentali ci danno poi la conferma del problema, quindi un'elettromiografia ci dice se c'è o non c'è una compressione del nervo. Senti, il tuner carpale è sempre stato abbinato come dolore all'uso del mouse. C'è entrato o no? E poi tu hai parlato di problemi ormonali, di derivazione ormonale, però anche di problemi funzionali. Certo. Posizioni viziate della mano, quindi sbagliate, diciamo per lunghi periodi della mano in posizione anomala sul mouse può dare origine al tuner carpale. Molto telefono? Telefono, qualsiasi posizione viziata della mano che viene mantenuta per diverse ore può essere alla base di problemi come il tuner carpale. Una volta fatta la diagnosi, quindi una volta che vai dal tuo amico ortopedico, una volta fatta la diagnosi poi come si interviene? Qual è l'escalation? Diciamo si prova a fare un trattamento conservativo che significa si prova a non operare utilizzando un tutore, però l'elettromiografia ci dice se la compressione è di grado lieve, moderato, severo o grave. Quindi se la compressione è di grado lieve uno può anche provare a fare un trattamento senza intervento. negli altri casi si fa un intervento chirurgico che è un intervento abbastanza rapido si fa in una chirurgia ambulatoriale quindi in anestesia locale un intervento che dura un quarto d'ora dieci minuti e che risolve nella quasi totalità dei casi il problema fin da subito. Una volta finita poi uno va dal fisioterapista o ancora prima di provare all'intervento c'è qualcosa di manuale che uno può fare perché mentre parlava diceva quasi sempre come la mia percezione quasi sempre poi bisogna comunque operare perché questo nervo viene schiacciato è un problema meccanico quindi il nervo che viene proprio schiacciato e quindi va liberato il nervo dalla sua compressione e lo si può fare solo aprendo questo famoso canale entro cui il nervo sta quindi diciamo togliendogli il tetto e quindi dar spazio al nervo per poter quindi una volta fatto comunque l'intervento la ripresa non so è rapida tempo di togliere i punti quindi un paio di settimane in genere non è neanche necessario fare fisioterapia senti Alessandro ma tutte queste infiltrazioni che spesso vengono proposte adesso vanno molto ad esempio quelle del cortisone servono? cioè come succedaneo come alternativa levo un po' dolore diciamo come prendere un po' tempo oppure ci sono persone che per esempio non possono operarsi per altre ragioni e allora allora l'infiltrazione trova il suo spazio però laddove si può fare chirurgia è talmente risolutiva è talmente poco invasivo questo tipo di chirurgia che vale la pena affrontare l'intervento chirurgico continuiamo la nostra chiacchierata dopo un piccolo consiglio per voi Alessandro l'addormentamento o il formicolio delle dita è sempre collegabile al tunnel carpale oppure ci sono possono essere altre origini? No diciamo il tunnel carpale è la più frequente sicuramente a volte invece si addormentano non le prime quattro dita ma le ultime due in questo caso la compressione non è del nervo mediano al canale del carpo ma è del nervo ulnare al canale cubitale quindi a livello del gomito quindi si chiama tunnel cubitale il cubito il gomito e anche in questo caso l'intervento è la soluzione migliore? Sì l'intervento risolve il problema a differenza che nel tunnel carpale nel tunnel cubitale quindi a livello del gomito la neuropatia quindi la sofferenza del nervo può essere secondaria all'artrosi del gomito e quindi la risoluzione può essere legata non solo alla liberazione del nervo stesso ma anche alla risoluzione dell'artrosi dell'articolazione Dottore anche questa volta la prevenzione prima di tutto se avete un problema andate dai professionisti nel frattempo vado dalla mia professoressa che già mi sta aspettando Pucci Romano e noi ci vediamo alla prossima Margherita a dopo a dopo Alessandro allora l'ultima domanda invece è sulla campagna della SIOT la società italiana di ortopedia e traumatologia che si intitola Sosteniamo il tuo futuro per dare il senso dell'importanza della cura delle ossa della prevenzione fin da giovani e non soltanto quando la struttura ossa è degenerata e si può fare poco che cosa ci dice a proposito ecco è giusto questo concetto bisogna insistere come diceva anche Massimiliano prima la prevenzione è molto importante per la salute delle nostre articolazioni perché prevenire un danno articolare ci consente di intervenire in tempo quindi uno da giovane che deve fare perché da giovane dovrebbe pensare a tante cose ma per le ossa che deve fare dieta equilibrata peso giusto attività sportiva sono sicuramente i rimedi migliori per evitare una sofferenza delle nostre articolazioni allora grazie Alessandro e adesso noi ci salutiamo e invece passiamo la parola a Massimiliano bentornata professoressa Pucci Romano oggi c'è un tema molto importante si parla di sudore quindi inizia a fare più caldo e chi fa sport è già suda tantissimo però esiste il tema della sudorazione eccessiva cosa possiamo fare? intanto la sudorazione è una delle funzioni della pelle cioè la pelle ci termoregola sia col freddo che col caldo attraverso i pori che si chiudono si aprono e favoriscono la temperatura costante del nostro corpo quindi diciamo la verità che è importantissima purtroppo ci sono delle persone che soffrono di iperidrosi cioè di sudorazione eccessiva e questo può interessare le ascelle ma può interessare le mani la pianta dei piedi insomma l'iperidrosi non è piacevole però anche la sudorazione normale va accudita perché per esempio il cattivo odore del sudore non è legato al sudore stesso il sudore non ha odore sono i batteri che fermentano che favoriscono la diciamo quell'odore non proprio piacevole poi c'è da dire un'altra cosa il sudore dipende anche dal sistema nervoso non volontario cioè quello che noi non governiamo una paura uno stato d'ansia stavo per dire molto spesso uno suda perché teso perché ha un'aspettativa è messo in difficoltà esatto è legato anche al nostro stato d'animo un'emergenza o comunque una condizione di stress possono favorire eccessi di sudorazione e questo significa poi avere a che fare con questo sgradevole effetto parlando di odori sgradevoli del dorante la prima cosa di mente del dorante che è un pianeta come si dice che uno pensa al dorante migliore per odore ma non nessuno ha mai spiegato quale utilizzare realmente ma il deodorante fa parte dei cosmetici che tutti i giorni noi utilizziamo perché comunque viviamo in una epoca occidentalizzata ci laviamo tutti i giorni e ci mettiamo il deodorante i deodoranti sono delle fanno parte di quelle sostanze che contengono anche delle altre diciamo molecole come i sali d'alluminio che vengono molto usati nella deodorazione e che per esempio io sconsiglio negli adolescenti perché quando noi attappiamo la ghiandola non favoriamo una sudorazione fisiologica i deodoranti possono in base alle caratteristiche o alle necessità di ognuno di noi essere non dico dannosi ma bisogna proprio scegliere quello giusto assolutamente io come presidente Schineco non posso che parlare di molecole ecodermocompatibili per fortuna i gas propellenti sono stati vietati perché inquinavano ed erano un impatto avevano un impatto negativo sull'ambiente ma anche su di noi quindi dobbiamo usare delle sostanze ecodermocompatibili e ce ne sono attenzione anche ai tessuti perché i tessuti sintetici non favoriscono una sana traspirazione ho detto che lei sa tutto ma se parliamo di sport che dottorante dobbiamo usare? la sudorazione nello sport è fondamentale chi più di te non lo sa io sono dell'opinione io che corro spesso addirittura vado a correre quasi senza perché una volta che devo sudare dopo ti lavi e lo metti ma durante l'attività fisica dobbiamo favorire la sudorazione che deve tenere in ordine la temperatura bere idratarsi perché perdiamo liquidi con la sudorazione e continuare a idratarsi regolarmente esatto professoressa Bucci Romano noi ci vediamo sabato prossimo e parleremo di protezione solare visto che inizia a fare veramente caldo approfittiamo ancora di lei va bene? assolutamente a sabato prossimo Margherita io vengo subito subito da te Margherita eccoci qua ricongiunti come sempre allora ti dispiace che siamo giunti alla penultima puntata? sempre il tempo vola cosa ci serve però per l'ultima abbiamo degli ospiti veramente super quindi non mancate ci vediamo sabato prossimo grazie a tutti